Ehi salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo gameplay di FNAF 10 HD Remastered che faremo Qua ci sono proprio le rovine sommersi Qua ci sono? Non è un'avvante, non è un'avvante, non è un'avvante Ok, non è un'avvante dai so... Grazie per la visione! Siamo proprio con tanti che non è uguale, secondo questo boss che per il momento non si può battere comunque, più in avanti credo che si può battere, nel corso del gioco, a quel momento dovremmo solo difendersi, infatti per lì, poi trovi anche un casino di utilizzo, la mozione neanche difende? Allora, proviamo proprio un po' di costruzione, cosa ci sa fare la bella? Al momento con questa spada non potremo fare un cazzo. Questa è un po' di costruzione. 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 5 siti, calling for funnels. Noi soli soli un po' di costruzione. un po' di cuore il caldo e la legna necesitare un fuoco la legna la legna se scendere un fuoco se scendere un fuoco se avessi una cosa la legna Grazie a tutti. Ok, però prima di uscire il palo, esproneremo un po' con la zona. Secondo me anche in questo gioco, in questo modo si può fare affendere se gli eleri sono rari da ottenere. Abbiamo fatto proprio il chieno del nostro inventario per il momento. Non so se c'è atto da esplorare. Ah, lì dietro c'è un po' zio, non so se posso rarci. Ecco, no, un'extra pozione è inizio al gioco. E potremmo anche accendere le piede focaie. Accendere. Mamma mia, tre ore per accendere un po' di fuoco. E' a fame. Cioè è tipo come cuoco, ha sempre fame. Questo sto di tutto. Cioè si rilassiamo. Cos'è nulla forse. E' venuto proprio dall'incubo di Zanna. Qua quando Sin stava distruggendo tutto. Che ha messo proprio di pane con la città integra. Che siamo venuti anche da una partita tra Zanna, Gandip e Bzzconzo, non so chi. No, stavo piangendo no. Era solo... Era solo a leggere gli occhi, non stavo piangendo. Ho pure il nuovo fumo che mi sono messo prima di... ...andare a fare una partita. Ehi, aspettate, aspettate! Non vieni a me! Ah, ah! Scusate, prenderò più bianco. Poi la fiamma che ci stava proprio per trollare. Cioè non c'è un attimo di pace. Posti di qui, posti di là. Ok. E ora andiamo a seguire la battaglia. Dimi una partita! poi andra di variare! Non Roomimata! Se sai Maya, ma non ho fumo di stare! Non sono problemi! Non mi faił overszzata. Nei, non. Grazie a tutti. 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 Credo che vi avrei registrato anche abbastanza perché trafirmati... Ok... Mi sa che potremmo anche chiudere qui questo secondo episodio... Ok... Alla prossima... Aiuteremo... Ci vediamo... Alla prossima... Alla prossima... Alla prossima...